Buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Che cosa sta succedendo nella casa del grande fratello? Forti dichiarazioni arrivano dalla casa più spiata d'Italia. Tommaso dopo la puntata di ieri sera sembra essere andato in crisi. Cosa sta succedendo? Scopriamone i motivi. Tommaso Zorzi nella notte tra il 18 e il 19 dicembre sembra aver avuto una vera e propria crisi di nervi, ripensando ai messaggi della sorella Gaia e del suo manager, messaggi che ieri sera Signorini ha mandato in onda e che vi mostro adesso anch'io. Il primo di Gaia Zorzi è questo. Amici voglio entrare subito in casa per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a casa. Lei si riferiva ovviamente alla nomination di Stefania. L'altro messaggio sempre della sorella Gaia è questo qui. Come tutti i nomi proprio quello di Stefania dovevi dire ennesimo posto sempre della sorella. Ed è proprio che questa notte Tommaso ha fatto così le valigie, mettendo tutta la roba nel magazzino, mentre Stefania cercava di tranquillizzarlo. Ma Tommaso Zorzi sembra avere le idee chiare e dichiara così. Sono psicologicamente pieno. Amore ti prego, rivolgendosi a Stefania, non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono al limite. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno cercato di convincere l'influencer che è riuscito a passare la notte nella casa più spiata d'Italia. Ma stamattina però sembra ancora morto turbato. È convinto della sua decisione che sarà definitiva nelle prossime ore. Ma Tommaso Zorzi ancora una volta ragazzi vi dichiaro che è stato chiarissimo e ammette sono stanchissimo e è arrivato il momento di tornare a casa. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video.